26 settembre 2015, la Liumonaia, la ex villa Talon, il parco dei Talon, in Casalecchio di Bologna. Siamo stati a fare un percorso al buio, organizzato da quattro stagioni nel parco, intitolato Parco in tutti i sensi. Inizia a rivolta in particolare a moda non vedenti, che insegna ad ascoltare il parco, a sentire, ad annusare il parco, a percepire il parco, non vedermosolo con la lista. Questa è l'ex di Monanaia, il professor Paolo Giacomone suona. Siamo all'aperitivo di fine del corso. Questa è l'ex di Monanaia, il professor Paolo Giacomone suona.